Avremo diversi interventi, in primis quello del presidente dell'Aurentis, Napoli che tornerà sui nostri schermi anche domani per la seconda amichevole conclusiva, quella contro il Grosseto. Lì partiranno i titolari, lì sarà un test veramente probante per la formazione di Mazzari. Andiamo a rivedere quello che è successo in questa amichevole, ripeto, nel primo tempo il Napoli ha fatto anche fatica a certi tratti perché il Barletta aveva una buona gamba, qua Rosati è intervenuto per fermare lo sgusciante numero 7 della formazione biancorossa, Ionese Anine. Napoli che si era però a sua volta reso pericoloso con questo destro di un mascara impegnato in un ruolo che a questo punto gli crea qualche difficoltà, quello di centramanti principale ma sempre molto coinvolgente rispetto ai compagni e sempre desideroso di trovare la profondità. Il migliore nel primo tempo, l'ho detto più di una volta, è questo Jacopo Dezzi che ha avuto questa occasione al quarto d'ora dopo un controllo splendido, ha trovato anche un buon macino stretto sul primo palo di Sicignano. Nella parte finale del primo tempo meglio il Barletta, questo tiro di Menicozzo ha scomodato Rosati che poi però ha dovuto compiere una parata ben più significativa su Ionese Anine che inizia l'azione, allarga per il terzino Angeletti e va a chiudere il triangolo con un colpo di testa molto preciso sul quale la punta delle dita di Rosati ha evitato il vantaggio per la formazione pugliese. Nel secondo tempo altra partita anche perché è stato sostanzialmente un altro Napoli con diversi ingressi dalla panchina. La prima palla a gol aveva avuto ancora il Barletta con il destro del centramanti subentrato infantino parato bene dal portiere Colombo. Da lì è stato un monologo azzurro e andiamo a rivedere proprio le fasi più significative. Il colpo di testa di Mascara è andato fuori sul primo palo su un buon cross fornito da Mannini. Ancora qualche sussulto da parte del Barletta con l'occasione di Schetter dimenticato da Ruiz. Qua un brivido per Roberto Colombo. C'è stato ma immediatamente dopo, due minuti dopo il Napoli è andato in vantaggio. Colpo di testa di Ruiz. Pallone rimesso in mezzo per Dezzi che ha lasciato tutto solo a trafitto il portiere pane in posizione regolare. Jacopo Dezzi ha toccato alle spalle del estremo difensore bianco-rosso. È il suo primo gol in prima squadra anche se è solo un amichevole. Sicuramente un momento da ricordare, un momento che potrebbe essere anche profetico perché questo ragazzo piace davvero tanto. In vantaggio con Dezzi il Napoli ha avuto tantissime opportunità per raddoppiare. Hanno cominciato ad entrare i titolari. Questa è la prima tornata con Santana, Zemaili e Andrea Dossena. In particolare Dossena e Maggio sugli esterni hanno mostrato una condizione già molto molto buona. Grande autonomia anche, grande lucidità. Qua vediamo proprio Dossena sbucare, mettere il pallone in mezzo per Dezzi che non è riuscito a fare la doppietta personale. Anche lui poi è uscito lasciando il campo niente meno che a Marek Amsic, autore del gol del 2-0. Questa è la seconda tornata in istituzioni dentro in Lerre, Luccarelli e Cristian Maggio andato a posizionarsi sulla destra. Maggio che da quel punto ha dominato la propria corsia, prendendo costantemente di infilata la difesa spregiudicata, ma anche spesso intelligente del Barletta. Questa è proprio una situazione tipica. Il pallone aperto per Cristian Maggio che scarica l'indirizzo di Luccarelli. Salva tutto il difensore del Barletta Pisani. Questa è la prima palla gol chiara per il 2-0 del Napoli. Un'altra palla gol chiara è arrivata in una situazione molto simile che vedremo fra poco con Santana. L'ingresso anche della difesa, titolare in attesa di Campagnaro, ovvero Fernandez, Cannavaro e Rui... E chiedo scusa, è Britos al posto di Ruiz. Questo è il 2-0 di Marek Amsic. Ancora un'azione da calcio d'angolo. Il pallone è prolungato da Luccarelli che ha ingannato anche lo speaker. Ha ingannato soprattutto Pane dal tocco di Amsic. 2-0 per il Napoli e direi tutti felici. Ora possiamo provare ad andare a sentire Silver Mele a bordo campo. Silver C6.